Oh salve eccoci qua siamo su Spider-Man 1 per PS1 Calma tutti, fermi, è un casino, è successo cosa? Siamo in pausa, fermi! Che è successo? Oh, andata, allora... Fermi tutti, punto 1, finalmente stiamo continuando con la campagna, peccato, peccato che ovviamente non riuscivo a finire Spider-Man 1 Perché comunque sì, i gameplay se avessi fatto un 40 minuti forse ci stava, però vabbè Ormai abbiamo superato il 16 dicembre, però la parte che mi intrigava di più che lo potevo fare e che l'ho portato per il 15 è stato l'unione con Venom E quella era la parte che mi interessa più, soprattutto quando poi parlai di Venom in un vlog e dissi che lui comunque è mezzo rincoglionito, no? Ecco, l'abbiamo confermato proprio in quel video Ma qua continuiamo, qua è l'alleanza con Venom e cerchiamo il problema di Carnage E vabbè, non vi spoiler la trama per chi conosce il gioco sa come va a finire Però io al esempio questa parte me la ricordo proprio Quindi se mi vedrete perdere tempo in Ciron Solare è tutto normale Seconda cosa, beh, ormai è uscito il film di Spider-Man Poi parleremo magari con uno special, con un vlog, con una live Parlerò di cose, ci sarà sicuramente un vlog Ci può stare esclusivo, magari special dedicato all'ecensione di Spider-Man Del nuovo film, quindi aspettate tante cose Detto questo, continuiamo Ehm, no Ok Ok E adesso Wow, oh mio dio Ok No Ah, ma c'è un percorso qui, interessante Qui non si va da nessuna parte, credo Mmm, no Bene, andiamo per di qua Non ho niente di ragnatelle, Zep E' giusto per bloccarlo Sono forti queste Ma dai, che cazzottata Mi stai prendendo in giro? Oh Piuttosto E hai visto? Oddio, si vede la Se vede il resto, mamma mia Uh, fu lento Bello Munizioni Grande Questa è quella che ho salvato il tizio di prima Non ho mai visto il posto che senti C'è un tizio là C'è un tizio là, eh Ma dai, come hai fatto? Aspetta Sì, ho capito che hai fatto Vedi come sale e scende Sì, ho capito che hai fatto Sì, ho capito che non c'è un tizio di symbioti in questo posto Oh, sì, credo che non c'è un tizio di symbioti in questo posto Oh, sì, ho capito che non è stato il posto Se avviate l'acqua aire la La prima volta mi avverrà Oh, per favore mi aiutate Potrai trovare più cartrize web Oh, per favore mi aiutate Sì, ho capito che mi aiutate Per favore mi aiutate Tecnicamente io potrei... Ostancia al sicuro, mi sto dicendo che erano solo questi C'era un altro che non lo vedo Eccola, guarda come sta arrivando No, non c'è però Aret Dove sei? È là, ok Hai la faccia dell'antagonista, dei nemici Figo, questo mi piace troppo Pericoloso, ma non mi piace Oh, grande andato Scusate che sono molto concentrato Ok C'è cazzo, non c'era... Ah, c'era uno Ehm... Ehm... Oh, è forte Ha una cacchio di resistenza di... Ok, ha dato Ha l'ha fatta Bene, chiamiamo l'ascensore, eh Chiamiamo l'ascensore Ah, si buttava solo Io non ho fatto niente, eh Ha fatto... Ha fatto lui Ha fatto lui Um... Where are they all coming from? My impact webbing needs a little more oomph Oh, no Tolle, no Ah, una cacchio Il청are l'assistente Scusate che il ritro del territorio C'è qualcosa che si avrà Chie di fare l'ascensore Si muovono ancora. Si muovono ancora. Ah, io sono ancora vivo? No, ero vivo. Peccato, riprovo. Ah, mi ha fregato. Mi ha fregato. Mamma mia. Oddio, l'ho buttato giù malissimo. L'ho ammazzato subito. No, è morto stufandosi. Che tristezza. L'avete visto come è morto cadendo. Bellissimo. Ok, ecco me l'ho detto. L'elevator è iniziato. We need to get the elevator moving again. The elevator's started again. Ok, no, 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 no. No, 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 no. E' un po' di più. Allora, se io risalgo sopra... Sopra. Grazie. Vediamo se ci sta. Ecco infatti. Allora, dovrei provare l'altra porta. Madonna, non so se ci sto a menarlo manco una volta. Allucinante. Allucinante. Mamma mia. Eh, che cavolo. Avevo fatto una giocata freddissima. Visto? Oh, più oomph. E intanto che arrivo là sotto... Nel frattempo mando un messaggio a mio amico. Oh, ok. Mi dovete sentire, no? Sei lì. Intanto quello... caro. Bravo. L'elevator ha stoptato. Non è difficile. Il problema è che sono troppo forti loro. Oh, andato. Oh, andato. Oh, andato. Non è difficile. Oh, il è un'elevata è lì. Eh... I'd better try the other door. Ok, now wait, you're kidding, right? What are you guys gonna stop? Oh, ehm... Oh, grande. Eh, sicurezza che c'è se si può curare? Eh, sono tutto full. No? It seems like the further I go, the more there are. I'd better try the other door. No. Oh yes, ehm... Eh, e and then the other door... Eh? 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 oh e basta mamma mia era quella porta ce l'ho fatta guà che mazzo ne la sono sudata però sappiate che sono un film di vita quindi però ho preso praticamente ho preso dei come si chiamano i fumetti mi sono preso una vita fatta male però d'andato a simbio generator so this is how the symbiotes are being created there's one down oddio cerchiali di sfruggerli non mi conviene di sfruggerli non mi conviene di ma mamma mia guarda li sto evitando proprio mi è piaciuto come questo è un modo di morire fantastico ve lo posso dire bellissimo oddio mi è piaciuta la crinuccia mi ha fatto ricordare uno di quelle infartaliti iiii fatto allora come si chiamano oh the symbiotes are being created come se come si chiamano iiii iiii come si chiamano iiii come si chiamano iiii come si chiamano mi sfugge il nome oh fatalistiche mamma mia mamma mia mamma mia ho fatto ridere che sono caduto un po' giusto giusto lì no no stiamoci attenti ecco ecco just one more iiii 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 Grazie a tutti i generatori Magnesium, adding this to my webbing will make it burn. I think that's the last one. Bet there are more downstairs. No? Grande? Madonna, raga, cosa ho appena fatto? Bellissimo. Sì, non ci sono le stairs. Mamma mia. Partitona. Questa mi è piaciuta, raga. Proprio come si chiama Roma a cazzo duro. Ok, la smetto. La stoppiamo qua? Sì, la stoppiamo qui. Mamma mia. Oh, la stavo facendo rischiare. Mamma mia. Sì. Avevo pure i nemici, quindi la stoppiamo qui. Quella del 38, al prossimo video, passo e chiudo. Bye bye.